ok 3 2 1 go ciao ragazzi sono sempre il boss di monopattini oggi cambio la trasmissione al monopattino xiaomi big 6000 watt ok ovviamente la adesso vi faccio vedere la catena che c'ha adesso è la catena con quella corona e pignone che le andrò a montare è un po differente un po più grossa poi nei commenti mi fate sapere ovviamente con i denti più piccoli a meno denti va più forte e anche meno ripresa beh questo è da vedere che comunque ha una potenza assurda nei commenti ripeto fatemi sapere quello che vi pare poi vi ricordo sempre di iscrivervi ai seguenti canali mondo elettrico italia di facebook se avete bisogno sapete dove trovarmi e canale youtube ok poi mi raccomando se non avete acceso la campanella fatelo fatelo perché sennò le notifiche e i nuovi video non potete vederli va bene bella lì guardiamo insieme beh questo è lo xiaomi big come potete vedere 6.000 watt vedete adesso le cambio tutta la trasmissione questo è giusto per farvi vedere ok 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 e adesso allora guardate questa è la trasmissione che c'è adesso che sembra una catenina praticamente una catenina questo ovviamente per la potenza che ha è troppo piccola capite che come dire e poi queste maglie piccoli né dentro sono vuote c'è nel senso sono proprio sono managgio frega ecco adesso le andrò a mettere guardate questa è la trasmissione nuova corona più piccola 42 denti contro la 64 capite che con questa corona va molto più veloce il monopattino con questa corona qua guardate è quasi il doppio ha una ripresa assurda e praticamente poi risulta inguidabile invece con questa comunque a tanta ripresa e va almeno 20 all'ora in più o 25 all'ora in più vedete guardate proprio la maglia che diverge e due volte guardate cioè adesso sta andando con questa adesso ci metto questa e poi allora sì che poi potrò andare come dico io ok bene ragazzi questo è tutto era un coming son poi vi faccio vedere nei dettagli ciao ragazzi dal boss di monopattino se avete bisogno sapete dove trovarmi trasmissione nuova per xiaomi big 6 mila va ciao